Parliamo di calcio, Juve Stabia Pescara domenica ore 17.30, fuori soltanto l'indisponibile Pellacani, dunque l'imbarazzo della scelta per il tecnico Alberto Colombo, sono certi i rientri di Brosco e di Milani in difesa, ma diamo uno sguardo al probabile 11 con l'ausilio della grafica, grazie a Roberto Cherchi, Plizzari tre pali, ci sono in realtà due ballottaggi, Bobben in grosso ma lo sloveno è in vantaggio, il cuore reparto al fianco di Brosco, a centrocampo Palmiero favorito su Craia, sempre in mediana, Giabuà dal primo minuto in luogo di Aloy, davanti Cupone De Sogus a supporto di Lescano, sembrava che ci potesse essere qualche possibilità per Colai che rimane, però insomma De Sogus sembra in netto vantaggio. Juve Stabia, reduce da tre K.O. esterni consecutivi, per essere ancora più precisi, l'ultimo sul campo della corazzata Catanzaro, Colucci tornerà la difesa a quattro, fuori Caldore per la squalifica, Tonucci causa infortunio recuperati, Cinaglia e Lex Mignanelli, il probabile 11 Barosi tra i pali, 4-3-3 Maggioni, Cinaglia V-Mercati 2002 al debutto dal primo minuto e Mignanelli a comporre il reparto arretrato in cabina di regia. L'ex, il montesilvanese doc Luca Berardocco che è cresciuto nel vivaio Biancazzurro, Mezzali, Scacca Barozzi e Altobelli, davanti Silipo e Pandolfi, a supporto di Santos, doppia nazionalità Venezuela-Germania, classe 1988. È arrivato a metà ottobre, ha segnato un gol in quattro partite il match e in programma domenica, ricordiamo ancora una volta alle 17.30, stadio Menti di Castellammare di Stabia, la direzione arbitrale è stata affidata a Tremolada della sezione di Monza.